La crisi educativa, la crisi sanitaria e la crisi economica vedono l'Italia purtroppo agli ultimi posti. Allora, capite che non è una questione caratteriale, non è un problema delle singole persone, non è un problema che si può risolvere con una poltrona. Noi le poltroni le abbiamo lasciate e siamo gli unici ad averlo fatto. Perché mentre in Parlamento assistiamo a un autentico scandalo, che è quello del tentativo di far passare delle persone non su un'idea, ma su una gestione opaca delle relazioni personali e istituzionali, mentre in Parlamento assistiamo a questo, alla creazione di gruppi improvvisati, noi siamo qui oggi a dire con forza che abbiamo rinunciato, grazie a Teresa, Elena e Ivan, alle nostre poltrone perché vogliamo far prevalere le nostre idee. A tutti quelli che vi dicono, non c'è un argomento per questa crisi, è un fatto caratteriale, psicologico. Fate vedere i numeri che mostreremo qui adesso, fate vedere i dati della situazione economica, sanitaria ed educativa, parlate di contenuti, forse non vi ascolteranno, forse vi diffameranno anche voi, forse vi attaccheranno con fake news, forse vi scateneranno i troll dietro, ma avrete fatto una cosa importante, avrete fatto politica. Perché per fare politica occorre studiare, conoscere e fare delle proposte. Quello è ciò che noi abbiamo cercato di fare dal primo giorno e che stiamo cercando di fare. A noi sta a cuore l'Italia e l'Italia deve ripartire adesso.